ciao sono il dottor max in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie in questo video analizziamo il sintomo ritenzione idrica cause e sintomi anomalo accumulo di liquidi nel sistema circolatorio all'interno di tessuti o cavità del corpo possibili cause di ritenzione idrica ritenzione idrica è un sintomo comune o probabile di queste malattie cause comuni beriberi cirosi epatica cuore polmonare fibrosi epatica ipotiroidismo miocardite mixoma morbo di cushing morbo di asci moto nefropatia diabetica sindrome premestruale sintomi dello scompenso cardiaco cause rare acidosi metabolica asbestosi colangite sclerosante di stress respiratorio edema polmonare emocromatosi primitiva e secondaria epatite c febbre gialla febbre reumatica fibrosi polmonare gastroenterite insufficienza renale intolleranze alimentari ipertensione polmonare menopausa mesotelioma pleurico pericardite sindrome di piccic tumori cardiaci grazie per avermi seguito fino a qui le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia spero di esserti stato utile metti un mi piace iscriviti al canale sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute fonte my personal trainer punto it